grazie simona buonasera e benvenuti a tutti non è facile trovare posto per parcheggiare infatti qualcuno di voi ha penato un po' ed è un l'unico difetto di questo bel locale che come avete visto è stato completamente rinnovato secondo criteri strettamente rigorosamente ecologici e facciamo i complimenti a volere la luna e a tutti quelli che ci hanno lavorato qui con passione prima di tutti Enzo il nostro amico di sempre e cominciamo questa serata che non è semplicissima non è di grande attrazione nel senso della popolarità perché le cose in questi anni sulla questione dell'acqua non sono andate bene come speravamo dopo quel magnifico risultato che avevamo avuto con il referendum del 2011 speravamo che la strada fosse più facile in realtà è diventata sempre più irta di ostacoli e qui ci sono delle responsabilità che questa sera vogliamo denunciare non per un atto di accusa astioso e velenoso ma per denunciare proprio delle carenze delle mancanze delle inadempienze da parte degli enti pubblici oltre che di tutti gli agenti coloro che operano nel campo delle risorse idriche che invece di facilitare la strada verso la realizzazione del bene comune e cioè del bene che non è di proprietà di nessuno ma è di tutti di un bene che è una risorsa essenziale per la vita senza la quale non vivono non solo gli umani ma neanche gli animali le piante e la natura nel suo insieme un bene che la dichiarazione la risoluzione universale dei diritti dell'uomo delle nazioni unite nel 2011 ha dichiarato anch'essa appunto l'acqua come un bene comune che deve essere reso accessibile a tutti e così via non la faccio più di tanto lunga devo solo avvertire che oltre a Eleonora Artesio qui presente che conosciamo tutti benissimo per i tanti anni di impegno e militanza nella nostra città in regione ci saranno anche la professoressa Agostino che però ci parlerà a distanza e il nostro amico di sempre responsabile nazionale insomma segretario nazionale del forum italiano dei movimenti dell'acqua che ci raggiungerà da Roma e lo vedremo fra un po' su queste magnifiche apparecchiature di cui si è dotata o volere la luna partiamo nemmeno da tanto lontano otto anni fa guardate io qui una due documenti che si possono esibire che sono di una certa gravità il una delibera del consiglio comunale di torino e sedici quindi cinque anni dopo il referendum vittorioso a torino si ha stravinto a man bassa oltre il 60 per cento dei torinesi ha detto che l'acqua deve rimanere pubblica e gestita dal pubblico ebbene in questa delibera il consiglio comunale propone e decide di dare degli indirizzi ogni anno per legge i consigli comunali devono dare degli indirizzi operativi strategici alle aziende comunali di loro proprietà e per la smat il consiglio comunale di torino nel 2016 dice che non solo smat è autorizzata ad aprire una una linea di credito una insomma procurarsi dai 100 ai 150 milioni attraverso obbligazioni bancarie e sulla borsa di berlino la smat c'è bisogno di soldi per fare gli investimenti che non le bastano quelli delle tariffe perché entrano poco a poco e ha bisogno di aprire di fare contratti molto molto pesanti e quindi il consiglio comunale e tutti gli altri consigli comunali dei comuni soci smat devono deliberare l'autorizzazione perché smat faccia questo prestito obbligazionario la borsa di berlino per non importo che vada 100 a 150 milioni di euro che poi saranno mi pare 120 e dice che però smat deve convoca che il comune deve convocare ogni sei mesi la società smat presso le competenti commissioni consigliari della città di torino al fine di relazionare sullo stato di realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione in questo caso si trattava dell'acquedotto della valle orco previsti da realizzare e sullo stato di applicazione delle misure adottate in quell'anno rispetto all'installazione dei misuratori dei prelievi idrici misurare quanta acqua preleva e sulla effettuazione delle aree di salvaguardia a tutela e risparmio della risorsa idrica parliamo del 2016 a noi risulta che una volta o due altro che semestralmente la smat si è andata a dire in in commissione come andava l'appalto della valle orco per l'acquedotto della valle orco e nient'altro ogni sei mesi però diceva che doveva essere convocata come se non bastasse nel bilancio di previsione di due anni fa dove è previsto appunto che siano inseriti anche gli indirizzi a smat per le opere da fare da privilegiare le priorità e così via due anni fa l'unica raccomandazione impegno che veniva affibbiato a smat era il restauro delle fontane monumentali di torino nessuno nega che debbano essere messi a posto che siano belle che avvantaggino il look della città però non ci sembrava la priorità assoluta tant'è che da allora a noi è venuto in mente che qui se il consiglio comunale non si muove e si limita a dire dei respetti non gli ricordi che ci sono problemi molto più grossi che la smat deve affrontare e che compete al comune di torino e agli altri comuni soci dire che cosa deve fare quali sono le priorità perché sembra che negli anni si siano rovesciati i ruoli i comuni sono i proprietari di smat tutti sono soci della azienda smat spia smat è che l'idraulico dei comuni il padrone di casa è il torino maggioritario ma tutti gli altri comuni della provincia ha lo stesso titolo e smat è il loro idraulico i ruoli ci sono rovesciati smat è diventata il factotum e il comune non solo non controlla ma non dice nulla non chiede neanche di incontrare smat se non per qualche cosa che è più apparente che reale anche ultimamente per esempio sulla questione dei pifas ma ci ritornerò brevemente dopo ebbene visto che era questo il compito che il comune di torino dava smat ci siamo decisi come comitato acqua di torino di iniziare un'azione un po più incalzante e assieme a diversi diversi altri movimenti voi li vedete sulla locandina che abbiamo pubblicato diversi altri movimenti abbiamo predisposto una delibera di indirizzo smat e con i contenuti che secondo noi in questa fase di crisi climatica di cambiamento climatico di crisi anche idrica ricordiamo tutti l'anno scorso che cosa è successo sulla siccità in certi in certe zone anche della nostra provincia in questa fase insomma di grande preoccupazione in questa fase in cui è accertato che i tubi di smat nella provincia di torino perdono il 43 per cento dell'acqua prelevata cioè noi utilizziamo solo il 57 per cento dell'acqua che preleviamo dalle montagne ricordate i misuratori di prelievo che bisognerebbe installare per calibrare il prelievo dell'acqua al fabbisogno e fabbisogno è tanto perché quasi metà se ne spreca per strada e invece di cambiare i tubi ripristinare le tubature le condotte metterli nuovi perché molti moltissimi chilometri dei condotti dell'acqua sono vecchi risalgono addirittura dopo guerra ricostruiti allora dopo i bombardamenti eccetera se non prima ancora della guerra nei comuni montani quindi sono vecchi sono bucati sono fragili e vanno sostituiti e le tariffe e i finanziamenti devono servire a quello e invece si costruiscono nuovi acquedotti pensate per esempio quello della val di susa oppure questo dell'orco che stanno costruendo adesso che poi porta giù l'acqua e va a disperdersi e a negli acquedotti vetusti e ormai consulti questa è una priorità che noi abbiamo messo nella nostra delibera assieme ad altre prescrizioni comprese l'installazione dei misuratori la salvaguardia tutela vera delle aree di salvaguardia vi cito anche qui un piccolo esempio e poi passo la parola abbiamo scoperto grazie a green peace e alle ricerche che ha fatto che oltre 70 comuni della provincia di torino forniscono acqua potabile avvelenata dai pifas i pifas sono sostanze altamente inquinanti indelebili che non si possono annullare e non si possono distruggere infatti sono chiamati inquinanti eterni e si accumulano nel nostro organismo e negli organismi vegetali gli altri animali nelle piante e noi assorbiamo questi veleni quando green peace ha lanciato questo allarme smat abbiamo scoperto che smat era da due anni da due anni che sapeva che aveva fatto indagini e aveva i dati che questo era vero e però nessuno l'ha saputo smat ogni sei mesi doveva essere convocata in commissione per dire come andavano le cose è rimasto tutto segreto finché almeno ufficialmente non c'è un atto pubblico del comune di torino che dica che finché green peace non ha denunciato questa cosa qualcuno in comune sapeva sembra da quel che risulta che nessuno sapesse e che smat abbia tenuto questi dati per sé d'altra parte sia il padrone e il comune che dovrebbe essere lui padrone non se ne interessa è chiaro che ha tutto l'interesse a tacere su queste cose perché la prima cosa che viene fuori è risanare ripulire isolare eccetera quindi costi quindi meno utili meno guadagni meno profitti ecco lo scopo della società per azione creare utili e quindi profitti da distribuire i soci anche se sono in comuni questi esempi per dire quanto sia necessario che le nostre amministrazioni locali si sveglino e facciano il loro dovere facciano il loro dovere che compete in prima persona al sindaco di garantire tutelare la salute dei cittadini e qui sono questioni di salute oltre che di questioni di ambiente nel momento in cui sprechi tutta quest'acqua l'anno prossimo quest'estate cosa ci aspetterà se continuiamo su questa strada c'è un'adempienza gravissima da parte dei comuni della quale vogliamo parlare questa sera e chi più di eleonora artesio che è stata assessore in comune è stata assessore in regione quindi conosce l'interno della macchina pubblica può dirci quanto ci sia di vero e come può succedere questo in amministrazioni pubbliche come la nostra poi si collegheranno sia Paolo Carsetti da Roma e la professoressa Agostino da Torino credo che ci parleranno sia appunto della crisi climatica della siccità e dei fenomeni più generali mentre la professoressa Agostino ci metterà il suo dito sapiente e sagace sulle questioni di costituzionalità che non viene rispettata in un periodo in cui si parla addirittura di riforme costituzionali passo la parola a leonora artesio che ringrazio di essere venuta personalmente qui questa sera con noi